Ben trovati ai telespettatori di Le Fonti TV e benvenuti a questo nuovo appuntamento con le interviste di Le Fonti Illegal. La puntata di oggi è dedicata a uno dei temi di cui si è discusso maggiormente nell'ultimo periodo e che fa riferimento agli impatti del Covid-19 sulla compliance sui modelli organizzativi 2-3-1 delle aziende. Di 2-3-1 se ne parla da anni, diciamo che è uno dei temi caldi, ma mai come adesso le aziende hanno dovuto testare proprio la tenuta dei loro modelli organizzativi per fronteggiare una serie di profili di rischio che sono emersi proprio dall'emergenza sanitaria. Per capire quindi di quali rischi, anche di quali reati eventualmente si può andare incontro e capire anche come un'azienda può gestirli e prevenirli. Io do il benvenuto qui in studio che è venuta a trovarci all'Avvocato Chiara Padovani dello studio Legale Padovani, benvenuta. Buongiorno, grazie a lei per l'invito. Buongiorno a tutti. Avvocato Padovani, quindi già chiariamo un po', sono sorti appunto nuovi profili di rischio come ho detto insomma in apertura. Ecco, di che rischi si parla? Quindi rischi che direttamente o indirettamente possono generare una responsabilità amministrativa 2-3-1? Dunque, dobbiamo distinguere a mio avviso da quelli che sono i rischi diretti di una responsabilità 2-3-1, da quelli che sono dei rischi indiretti rispetto alla situazione di emergenza sanitaria. Il momento di pandemia ha certamente messo a dura prova, ha testato, ha costituito un momento di stress test per la tenuta di tutti i modelli 2-3-1. Il primo rischio diretto è naturalmente quello fisiologicamente legato all'emergenza sanitaria e quindi alla salute, quindi alla tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Questo comporta che cosa? Comporta che c'è stata una rivisitazione in chiave di prevenzione per evitare che insorgessero focolai, casi comunque di lesioni o addirittura di morti legate alla contrazione del Covid sul luogo di lavoro. Quindi questo è stato il primo rischio diretto. Un rischio diretto che si è gestito ovviamente attraverso l'adozione di quei protocolli, di quelle misure di precauzione, non solo di prevenzione, visto che del virus ancora non sappiamo molto dal punto di vista scientifico. Quindi misure di prevenzione, misure di precauzione che le aziende sono chiamate a inglobare nel proprio DVR, nel documento di valutazione i rischi ai sensi del decreto legislativo 81 del 2008 e da applicare costantemente per evitare ovviamente il rischio del contagio. Quindi questo è un primo aspetto. Ma la situazione di emergenza, la rarefazione interpersonale, l'accelerazione della necessità di ad esempio adottare dei dispositivi di protezione individuale, quindi una velocità negli acquisti nella catena del supply chain, ha anche aperto le porte a degli altri rischi, rischi indiretti, rischi indiretti 2-3-1 che sono legati essenzialmente alla scelta del fornitore, a magari una contrazione di quei protocolli di prevenzione in chiave penale preventiva di alcuni reati legati tipicamente all'approvvigionamento di beni e di servizi. Quindi ovviamente, ripeto ancora una volta, il tema della selezione del fornitore e l'accelerazione con la quale sono state incamerati determinati acquisti può comportare, può aver comportato una mitigazione dei presidi di controllo. Pensiamo ai reati informatici. L'aumento spasmodico dell'utilizzo dei sistemi informatici aziendali da remoto, da casa, ha comportato un aumento del rischio di reati informatici. Pensi su questo che proprio recentemente è stato pubblicato uno studio che annota come durante il lockdown siano aumentati del 600% i casi di phishing, quindi un aumento esposenziale del cyber crime, anche questo ovviamente legato ai reati presupposto 2-3-1. E poi ovviamente il tema, il lockdown è intervenuto, la pandemia è intervenuta in un momento in cui sono entrati in vigore i reati tributari. Ecco, proprio questo è proprio uno dei temi, anche questo insomma più dibattuti, proprio perché sul fisco diciamo ci sono state delle recenti e importanti modifiche con appunto questo decreto collegato alla legge di bilancio 2020 che di fatto ha inserito i reati tributari della 2-3-1, insomma. Esattamente. Ecco, questo ha determinato delle conseguenze anche per le aziende. Questa riforma è stata una riforma epocale, una riforma che era già stata sollecitata, pensi, dalle Suprema Corte di Cassazione, le sezioni unite alla Suprema Corte di Cassazione con una nota sentenza del 30 gennaio 2014 che ravvisava l'irrazionalità di un sistema 2-3-1 che non contemplasse quei reati, cioè i reati tributari che sono fisiologicamente connaturati alla vita dell'azienda. Qui tutte le aziende sono esposte perché tutte le aziende presentano una dichiarazione di eredite e sono contribuenti. Riforma epocale che si è purtroppo, e già qui vediamo come dire, una non perfetta introduzione in termini di tempi della legge, perché lei sa che questa riforma fiscale è intervenuta in due momenti distinti, 25 dicembre 2019 e poi 2020 con il decreto legislativo 75 del 2020 che appunto ha dato attuazione alla direttiva PIF. Cosa comporta questa riforma? Innanzitutto comporta che un aggiornamento doveroso del modello 2-3-1 per chi, per quelle aziende che hanno già ovviamente il modello, perché i reati fiscali riguardano tutte le tipologie di aziende, è trasversale. Il secondo elemento è che le conseguenze sanzionatorie previste anche a livello 2-3-1, e cioè la confisca del prezzo del profitto del reato tributario, anticipa il rischio di un'esposizione economica importantissima dell'azienda nel caso di apertura delle indagini, perché quella che è appunto concepita come confisca, come aspetto sanzionatorio, può essere anticipata in termini di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, per equivalente alla confisca diretta. Quindi già nella fase delle indagini preliminari, l'azienda, se incolpata di un reato 2-3-1, può andare incontro già al sequestro del prezzo del profitto del reato. Quindi è un rischio economico enorme, tanto più per quelle aziende che non sono dotate di un modello, o che hanno un modello non aggiornato, che non hanno dei protocolli di presidio del rischio legato al reato tributario. Quindi la riforma, a mio avviso, è stata molto importante perché ha riportato il management di quelle aziende che non hanno ancora deciso di dotarsi di un modello, fare una riflessione seria sull'importanza di avere un sistema 2-3-1, un sistema di compliance che tenga il passo a questa novità normativa così importante. Ecco, alla luce appunto di questi profili di rischio che lei mi ha elencato, quindi come possono le aziende appunto difendersi o comunque prevenirli questi profili, questi rischi? Allora, rispetto ai reati tributari c'è una premessa da fare, però è una premessa fondamentale. I reati tributari si caratterizzano e si differenziano da molti altri reati presupposto 2-3-1 perché a poter essere, a dover essere con me, l'autore del reato è necessariamente un soggetto apicale, cioè il legale rappresentante dell'azienda, cioè chi firma la dichiarazione dei redditi. Questo cosa comporta? Comporta che la natura propria di questo reato vede suo specchio, suo contraltare, quell'inversione dell'onero probatorio e in particolare la dimostrazione da parte dell'ente, se vuole essere assolto da un'incolpazione 2-3-1, la dimostrazione che il modello, tra l'altro, è stato eluso fraudolentemente dall'autore del reato, cioè dal suo apicale. Allora lei ben capisce come per presidiare il rischio tributario, lo standing, il protocollo operativo, il presidio di controllo deve avere uno standing particolarmente alto e deve riguardare non soltanto tutto il processo aziendale legato alla fiscalità pura, come determino gli importi che devo versare all'erario, come tengo la mia contabilità, quale fotografia do del mio sistema, del mio scheletro economico e contabile, ma devo anche andare a preservare tutte quelle procedure che attengono ad altre aree sensibili e quindi a rischio indiretto di reato tributario. Ancora una volta, selezione del fornitore, come scelgo il mio fornitore, come lo accredito, come lo gestisco, come seleziono il mio cliente, come lo identifico e ancora come tratto le liberalità, le sponsorizzazioni, gli omaggi, le spese di rappresentanza. Queste sono tutte aree sensibili che possono avere un riflesso pur indiretto, ma lo vediamo sempre nei processi penali che seguono, c'è sempre questo aspetto, viene sempre in gioco quest'area sensibile che potrebbe poi trasmodare appunto nel reato tributario e quindi nell'illecito amministrativo. Ovviamente sono presidi che possono essere contemplati da un'azienda con una nuova mappatura del rischio, con una nuova gap analysis e con un nuovo risk management. Ecco, lei prima giustamente parlava di supervisione, di controllo. Ora c'è un organismo che è preposto anche proprio a questo, che è l'organismo di vigilanza, che dà sempre un ruolo fondamentale. Oggi più che ieri, diciamo, ovviamente avrà delle responsabilità, avrà dei poteri e un ruolo particolare. Ecco, com'è cambiato anche il suo ruolo, l'uomo dell'organismo di vigilanza, alla luce di tutti questi... Credo che l'organismo di vigilanza, rivesto diversi incarichi come presidente di organismi di vigilanza, di società partecipate, di società private, quotate in borsa e di diversi settori strategici dell'economia nazionale. Quello che io ritengo è che l'organismo di vigilanza debba essere innanzitutto espressione di una competenza tecnico-professionale molto elevata. Tanto più rispetto a questi reati, parlo dei reati tributari, che ricadono in una materia di diritto penale particolarmente sofisticata. L'organismo di vigilanza deve attuare un piano, appunto un piano di vigilanza, che preveda dei controlli ad hoc proprio rispetto a quelle aree sensibili che citavo prima. E quindi selezione a campione del processo di acquisto, selezione a campione d'analisi approfondita di come gestisco un determinato cliente, di come avvengono i flussi finanziari tra il cliente e l'azienda, ancora sulle sponsorizzazioni, ancora sugli omaggi, ma anche soprattutto verificare che ci sia una policy dedicata non semplicemente a questi profili, profili sensibili, ma anche ad esempio al conflitto di interessi, che a mio avviso segna lo spartiacque tra un buon sistema di compliance moderno, virtuoso e un sistema vetusto di compliance. Quindi avere una policy sul conflitto di interesse, quindi sul conflitto di interesse tra chi? tra dipendente e fornitore, dipendente e cliente, tra controllante e controllato. Questo a mio avviso crea un circolo virtuoso. Non dimentichiamo poi un altro aspetto e mi accingo a concludere su questo punto. Non dimentichiamo che tra le novità della riforma fiscale vi è anche la reintroduzione del tentativo per alcuni reati tributari e a certe condizioni. Ora noi pensiamo come l'azienda possa, il sistema di compliance di un'azienda, possa prevenire gli atti idoni, diretti in modo non equivoco alla commissione di quel determinato reato tributario. Questa anticipazione della soglia di punibilità ha delle ripercussioni, avrà delle ripercussioni notevoli sulla qualità di costruzione del modello. Ecco, quindi diciamo anche per l'organismo di vigilanza le parlava di alta specializzazione, cioè non si può improvvisare insomma perché i rischi sono elevati. Proprio su questa specializzazione quindi io suppongo che a fianco delle aziende debbano esserci anche dei consulenti, anche dei penalisti appunto è il suo caso, che devono anche magari consigliare l'azienda o comunque poi aiutarla a prevenirli soprattutto, quindi non solo lavorare ex post ma anche insomma per evitare che si arrivi poi al fattaccio. Ecco, qual è il vostro compito in questo caso, il vostro ruolo di penalisti? Penso e riflettevo proprio in questi giorni anche con degli altri colleghi anche proprio su questo tema, mai come in questo momento il termine prevenzione, quindi consulenza preventiva, consulenza penale preventiva assuma un significato concreto, reale e può essere davvero la chiave di svolta, la chiave di svolta mi viene da dire, cioè per voltare una pagina come dire di magari reticenza dell'azienda ad andare a chiedere una consulenza dal penalista se non quando ormai i giochi sono fatti. Invece la prevenzione, la mappatura del rischio, di quali rischi effettivi l'azienda può andare incontro per sé come ente 231 e quindi come responsabilità 231 ma anche singolarmente per il proprio management è fondamentale e in questo senso il consulente penalista è chiamato a corroborare la propria professionalità e anche la propria capacità di, come dire, prevedere i futuribili rischi legati a questa situazione e quindi ad avere un'attenzione, una sensibilità oltre che un rigore scientifico che deve essere quotidianamente alimentato. Ecco, chiudo con un'ultima domanda un po' per magari capire se lei vede già delle prospettive di evoluzione di questi profili di rischio, di questa anche attenzione ai modelli 231, quindi come vede lei questo scenario che si è delineato in questi mesi anche per i prossimi mesi? Ma la storia ci insegna che i momenti di crisi sono anche momenti di opportunità di miglioramento. Credo che l'opportunità di miglioramento per le aziende sia quella di capire come l'etica nel business aumenti la qualità del business, non lo ingessi. Per fare questo ci devono essere degli strumenti, come dicevo, di prevenzione, ma questi strumenti facilitano poi l'economia creando un circolo virtuoso. Dall'altra parte io penso che dei rischi immediati, delle ricadute importanti anche di rilievo penale potrebbero esserci rispetto ad esempio ai reati contro la pubblica amministrazione, perché pensiamo alle richieste di sovvenzioni, di finanziamenti pubblici che ci sono in questo periodo, di frodi in commercio legati ai dispositivi di protezione individuale, ai reati informatici. I rischi sono plurimi, bisogna saperli gestire con una metodologia unica e questa metodologia unica parte da un rigore nella prevenzione, da una consapevolezza del rischio e dalla consapevolezza e volontà di tutelare fin dal principio la società e i suoi manager e ovviamente l'intera comunità lavorativa di un'azienda. Bene, io Avvocato Padovani la ringrazio per averci chiarito tutti questi aspetti, anche difficoltosi magari per chi non è proprio del mestiere, però lei con una certa semplicità ci ha aiutato un po' a districare i vari aspetti. Io ringrazio anche i telespettatori e vi do appuntamento alle prossime interviste di Le Fonti di Galla. Grazie, arrivederci.